Allora, questa è una cosa che mi fa davvero incazzare. Nel 2022 io devo avere paura di andare allo stadio perché qualcuno che viene nel mio paese come ospite potrebbe distruggermi la città e rompermi i coglioni a me se sono in giro. E vi siete accorti ieri, 24 ore prima della partita Milan-Dinamo-Zagabria, dopo che c'erano stati già i precedenti in Atalanta-Dinamo-Zagabria quando si è giocato a San Siro. Cioè vi accorgete solo adesso. Non si poteva, siccome i precedenti, vietare la trasferta ai tifosi della Dinamo-Zagabria, poi magari ce la vietavano anche a noi. Però noi avevamo un motivo per farlo. Loro e noi non siamo andati a distruggerle la città nei precedenti nostri. Quindi questa è la soluzione. La soluzione è chiudere il secondo anello verde, chiudere il primo anello verde, poi dire di stare attenti ai cittadini, di andare in giro, perché se no questi arrivano, ma scusate, ma i 5.000 che hanno preso il tagliando. Non si poteva fare magari la regola che non si può avvenire per i cazzi loro, ma solo con i pullman organizzati. Che così, almeno, non so io, l'esercito, i caramba, che sorpresa, qualcuno di loro li teneva a bada appena entravano in Italia, li scortavano. E poi si portava direttamente allo stadio, dico, perché poi io non sono dell'organizzazione dell'ordine, magari dico delle stronzate. Però, che c'era un problema con questi tifosi, da tre anni lo si sapeva già, adesso scendiamo giù, attenzione, e io devo avere poi, in casa mia, in Italia, a Milano e a San Siro, scusatemi il rutto, non ci siamo, non ci siamo, è la vergogna di questo paese. Popolo Rosso Nero amici YouTube, abbiamo una partita importantissima, direi fondamentale, non ci giochiamo in questa partita la qualificazione, però è un tassello davvero importante, oggi bisogna fare i tre punti, i tre punti e basta, non ce ne sono di pareggi, tre punti contro la Dinamo Zagabria, una buona squadra, ok, ma niente a paragone al nostro Milan, cioè se prendo i loro undici, i nostri undici, non c'è assolutamente storia. In casa nostra, qui bisogna costruire la qualificazione in Champions, qui bisogna fare più punti possibili. Possibile, ha ragione mister Stefano Pioli, se il Milan gioca dal Milan non c'è differenza tra l'Europa e l'Italia, si vince. E quindi voglio una prova di carattere, una prova europea, una prova di gente che vuol dimostrare che il Milan in Champions ci può e ci deve stare, che il girone è solo una formalità e quindi, raga, il Milan oggi si schiera, magari anche contro, e poi vedremo qualche mia idea, ma mister Stefano Pioli ha sempre ragione, perché ci ha dimostrato che le scelte le sa fare, portandoci a vincere il campionato e facendoci fare fino ad oggi una grande stagione, in porta Magic Mike, sulla sinistra Teo Hernández, Tomori, Calulu, Calabria, Ballottaggio, ma quasi sicuramente, Joker, Salamaker, Tonali, Benanser, Leao e attenzione, qui è quello che potrebbe dividere i tifosi, come dicevo prima, 90 su 100, ballottaggio diciamo che è meglio, Diaz, De Katteler con Diaz, favorito e di punta giocherà Giroud. Raga, anch'io vorrei vedere De Katteler, ma mi fido ciecamente di mister Stefano Pioli. Ci vediamo stasera, dopo la partita, per commentare, io spero una grande vittoria, sempre Forza Milan, scassate di like il video, sempre Forza Milan!